Grazie a tutti. Dal prodotto, ovviamente dal concetto del servizio dell'Espresso in fronte al cliente. Modbar è una macchina relativamente nuova, è una macchina che fa parte del portafoglio Marzocco, è una macchina che sicuramente permette uno storytelling diverso, quindi una ritualità diversa, quindi sicuramente c'è bisogno di un attore, un interprete che sappia spiegarla, raccontarla, raccontare il prodotto che lavora e quindi qual è il miglior palcoscenico rispetto a Cassa Alimenti, quindi sicuramente è un incontro e un onore per noi fare parte di questa realtà. Sicuramente è un grande momento per stare tutti insieme, per condividere ancora di più che cos'è Modbar e per entrare in contatto con quelle realtà che oggi sono un po' il cuore pulsante di Modbar, che sono tutti questi studi di architettura che danno vita a questo prodotto nei locali italiani. È un prodotto innovativo e oggi sarà la giornata giusta per scoprirlo tutti insieme grazie a Cassa e a tutto il team Modbar Italia. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.